Io posso è il motto di Gaetano Fuso, 39enne salentino, originario di Calimera, dal febbraio 2014 affetto da SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, ovvero le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale, che controllano i movimenti della muscolatura volontaria. Una grande forza di volontà, una grande passione per il mare, una splendida famiglia a suo un gruppo straordinario di amici ed ex colleghi pronti a supportarlo in ogni iniziativa, un mix di ingredienti che ha permesso di trasformare quello che era un motto in un vero e proprio progetto. Gaetano, ex poliziotto in servizio anche a Matera, ha così realizzato il suo sogno e quello di molti altri affetti dalla stessa patologia, poter andare al mare. Nel 2015 è stata avviata una campagna di crowdfunding che in pochissimo tempo ha permesso di realizzare a San Foca, in pieno Salento, l'unica spiaggia in Italia attrezzata per accogliere malati dislike, chiunque abbia difficoltà motorie o disabilità che rendono difficoltoso l'accesso al mare. Nello stabilimento balneare, totalmente gratuito per persone con disabilità neuromotorie e che propone le necessarie attrezzature mediche, il personale volontario è composto da infermieri e bagnini con formazione specifica. Il progetto è stato un continuo successo di buone prassi e altruismo. Abbiamo creato un luogo di felicità non solo per i nostri 140 ospiti speciali, ma soprattutto per le loro famiglie. La terrazza ha regalato emozioni grandi. Si tratta di fatto del primo progetto italiano che dall'estate 2015 offre a tutti la possibilità di andare in spiaggia e farsi un bagno nelle splendide acque del Salento e da Matera Ghetano, come avendo tutti i presenti, ha annunciato l'intenzione di voler realizzare una seconda spiaggia attrezzata, questa volta a Scanzano Ionico, un altro sogno che potrebbe presto diventare realtà. Stiamo collaborando con una associazione locale per rendere possibile l'apertura di una terrazza a Scanzano Ionico. La Basilicata è popolata da persone che hanno dimostrato e dimostrano di avere una grande generosità e una forte sensibilità. Non merita certamente di essere seconda a nessun'altra regione, ma il merita attenzione verso i più deboli.